Questa mattina i precari e i disoccupati lavoratori iscritti al sindacato lavoratore in lotta stanno effettuando la pulitura degli spazi di piazza municipio. Questa è l'ennesima iniziativa per dimostrare alla cittadinanza tutta, alle forze politiche che in questa città nonostante tutto c'è bisogno di un lavoro utile e dignitoso per tutti. Questa mattina è un'ottima, 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 un'ottima. In questo momento i precari e i disoccupati lavoratori del sindacato lavoratore in lotta stanno dando l'ennesima prova che c'è bisogno di un lavoro utile e dignitoso per tutti in questo momento. Cosa ne pensi di queste iniziative? Niente, proprio. Il tuo giudizio? Qua a Napoli c'è bisogno di un lavoro subito perché noi siamo da molto tempo in piazza e siamo al sindaco, alle distruzioni, alla regione, alla provincia, al comune che si decidono sono loro e mettere tutti insieme per stabilire tutti i precari, disoccupati, lavoratori a fare unico bacino. Va bene, grazie, ciao. Bello, bello. Bello, bello. Grazie. 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 Grazie.